La riserva naturale del Borsacchio ha ospitato una tappa significativa della Summer School, il progetto itinerante del Laboratorio del Cammino, dedicato alla sensibilizzazione su temi cruciali come il turismo, sostenibili e cambiamenti climatici. Il progetto coinvolge un gruppo di circa 45 partecipanti, di cui 30 studenti universitari provenienti da tutta Italia, con una delegazione di studenti internazionali e 15 giovani ricercatori con il ruolo di mentori per guidare e orientare il lavoro, impegnati a percorrere rigorosamente a piedi le tappe del loro percorso. La Summer School è l'attività principale didattica del Laboratorio del Cammino, che è una rete di 14 università, che ogni anno porta studenti e studentesse a traversare un transetto d'Italia per studiarne le particolarità e soprattutto le fragilità. Siamo partiti da Ancona, abbiamo fatto una sosta di due giorni a San Maledetto del Tronto e ora ci muoviamo alla volta di Pescara per studiare tutti i tipi diversi e i sottotemi legati all'abitare, alla fragilità del cambiamento climatico e alle forme che assume il territorio anche in virtù dell'economia turistica e ovviamente con un'attenzione particolare alla natura e all'aspetto delle riserve. La giornata si è aperta con una visita mattutina all'area naturalistica del Borsacchio, durante la quale i partecipanti guidati da esperti hanno esplorato l'ambiente costiero e marino, soffermandosi sulle fragilità degli ecosistemi e le dinamiche insediative della costa adriatica. I nostri studenti e studentesse sono divisi in gruppi, i gruppi trattano sottotemi diversi riguardanti appunto le fragilità legate all'intermittenza, alla stagionalità che caratterizza l'economia di questi territori, legate appunto al cambiamento climatico, quindi ondate di calore, erosione costiera, legate a fenomeni di marginalità come la gattizzazione sociale o economica che attraversa e caratterizza alcuni quartieri e legate anche alla difficile o buona convivenza tra le specie, quindi la convivenza multispecie tra le persone, gli esseri umani, gli animali, i vegetali eccetera e non a caso siamo qui alla riserva proprio per studiare questo oggi. Una rete interuniversitaria di ricercatori che utilizza il camminare come metodologia di ricerca e didattica nel campo dell'urbanistica e degli studi urbani a livello universitario. Sono rimasta particolarmente colpita da effettivamente quanto sia efficace conoscere il territorio proprio a contatto, camminando, è questo il senso di tutto alla fine.